Siamo in prima linea al fianco della nostra comunità. Intanto i carabinieri fanno la spesa a un 87enne solo in casa che aveva chiesto aiuto al 112. De Luca fa dietro fronto, ok sport, ma da soli il governatore rettifica l'ordinanza con cui aveva vietato anche la possibilità di praticare attività sportiva all'aperto, ma restano misure severe per limitare il contagio in campagna. Dubbi dei giuristi sulla legittimità del dispositivo regionale. Mascherine fuori legge, sequestro a Caserta, nel giorno in cui i medici degli ospedali dell'ASL casertano lanciano l'allarme per la mancanza di dispositivi di protezione. La Guardia di Finanza ha denunciato 32 persone, tolte dal mercato 1.600 mascherine irregolari. Ariano ancora a contagi, riapre il pronto soccorso. Sono 19 i positivi al coronavirus in Irpinia, uno a Gesualdo, altri due sempre sul Tricolle, dove da oggi è di nuovo in funzione il pronto soccorso. Intanto il sindaco di Avellino lancia un appello alla solidarietà e i cittadini rispondono con le donazioni di sangue. Salerno, il sindaco chiede l'uso dei soldati. Il primo cittadino Enzo Napoli ha scritto al prefetto per chiedere l'ausilio dell'esercito per aumentare i controlli legati al coronavirus e contrastare gli assembramenti. Chiuso anche il centro agroalimentare per alcuni giorni della settimana. Nuovo esodo dal nord, l'Arabia di Mastella, ancora una volta treni affollati diretti al sud. Appello del sindaco di Benevento, autodenunciatevi, altrimenti vanificate i nostri sacrifici. Inaspriti i controlli ai varchi di ingresso e di uscita in città, presidiati dalla Polizia Municipale. Questi titoli di oggi ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura l'emergenza Covid-19. A Napoli De Magistris annuncia rinvii per il saldo di tasse e tributi per commercianti e cittadini e chiede aiuto al governo. Intanto, sempre da Napoli, la storia di un anziano che non riesce a fare la spesa e chiama il 112. Le farmacie vengono ancora prese d'assalto. Vediamo. Stop a tasse mutui e bollette. Lo annuncia il sindaco di Napoli De Magistris, che blocca anche il pagamento della sosta in città, ma chiede un intervento diretto del governo per dare sostegno concreto ai lavoratori. Il rinvio di una serie di scadenze di pagamenti, sospensione di altre imposte, eliminazione fino a cessata emergenza di alcuni tributi e continuiamo anche con l'impegno per chiedere al governo quelle misure straordinarie laddove il comune non può arrivare. Intanto, sempre da Napoli, la storia di un anziano bloccato in casa che ha chiamato il 112 per farsi aiutare a fare la spesa. Aveva quasi le lacrime al viso. Si vedeva proprio che era molto emozionato in relazione alla consegna effettuata da parte dei carabinieri. Farmacie prese d'assalto da 300.000 cittadini nella sola area metropolitana di Napoli e i lavoratori chiedono garanzie. Le 850 farmacie dell'area metropolitana sono veramente in trincea, anche perché in questi giorni le farmacie, giustamente come presidio sanitario di prima istanza, hanno subito un vero e proprio assalto da parte dei cittadini. Ho chiesto di far lavorare le farmacie a battenti chiusi. Solo in questo modo noi possiamo preservare da eventuali contagi il personale della farmacia. Le domande più frequenti in questi giorni sono sicuramente se abbiamo mascherine, gel igienizzanti, alcol, disinfettanti in generale, che purtroppo scarsiggiano. Intanto primo contagio per un lavoratore dell'Asia, ma il servizio della raccolta dei rifiuti non si ferma. È un solo caso ed è osservato. Poi individueremo il numero di persone necessario da isolare, ma nulla viene soppresso. E sulle restrizioni per l'emergenza coronavirus dietro fronte del governatore De Luca, dopo l'ordinanza che vieta di uscire accompagnati o passeggiare in strada senza motivo, nella serata di ieri la rettifica dallo staff del governatore. Resta la possibilità di fare attività motoria all'esterno, purché a distanza di un metro. Il provvedimento aveva generato diverse critiche, tra cui quella del costituzionalista Lucarelli, che dice si è sostituito alla polizia. Vediamo. Vada in quarantena chi passeggia per strada senza motivo, questa la nuova ordinanza, per contrastare la diffusione del coronavirus annunciata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta dalla sua pagina Facebook. Previsti per chi non si adegua, tre mesi di carcere e di ammenda fino a 200 euro. Il governatore che critica il Viminale ci va giù pesante. Qui noi abbiamo avuto una comunicazione confusa, anche da parte di organi del governo nazionale precisa, persino dal Ministero dell'Interno, come quella secondo cui si può passeggiare a un metro di distanza l'uno dall'altro. Idiozia. Poi in serata arriva il parziale dietro fronte, la rettifica dallo staff del presidente della regione. Resta dunque la possibilità di fare attività sportive e motori all'esterno, rispettando però le distanze di sicurezza. L'ordinanza di De Luca, che era sceso in strada a Salerno indignato dalla presenza di gente che passeggiava impunemente sul lungomare, virale il video, aveva sollevato diverse critiche. Fra queste quella del costituzionalista Alberto Lucarelli sui social. Quello che ora non può essere tollerato è il crescendo giuridico di De Luca. Oggi ha emanato un'ordinanza da Stato di Polizia, si è sostituito agli organi dello Stato, disponendo provvedimenti molto più restrittivi degli atti statali. La libertà di circolazione in Campania, scriveva Lucarelli, con provvedimento amministrativo regionale e di fatto non limitata, ma negata. Importante operazione della finanza che ha denunciato 32 persone e sequestrato più di 1600 mascherine nel corso di diversi controlli indirizzati a scongiurare episodi di frode legati alla vendita di dispositivi non sicuri. Il blitz è stato portato a termine in un magazzino di San Nicola la strada, dove sono state recuperate 1300 mascherine medicali pronte ad essere immesse sul mercato locale, sebbene prive della marcatura della comunità europea. L'imprenditore a cui sono state combinate sanzioni per oltre 150.000 euro non ha, tra l'altro, voluto fornire alcuna indicazione circa la provenienza della merce. Altri sequestri di mascherine irregolari in una farmacia di Caserta e in due parafarmacia Trentola Ducente e Giuliano in Campania e in un ingrosso di Casavatore. Le operazioni arrivano nel giorno in cui i medici degli ospedali dell'Asda di Caserta lanciano l'allarme proprio per la mancanza di mascherine. E in Irpini adesso, dove sono 19 i casi positivi al coronavirus, si attende anche l'esito dei tamponi su tre morti sospetti all'ospedale Moscati. Intanto il sindaco Gianluca Festa, sindaco del comune capoluogo, annuncia che sospenderà il pagamento del ticket per i parcheggi, mentre i cittadini rispondono all'appello di solidarietà con le donazioni di sangue. Vediamo. Sono saliti a 19 i casi positivi al coronavirus in Irpini. Agli ultimi riguardano due pazienti ricoverati al Moscati e residenti ad Ariano Irpino e una terza persona anche lei ricoverata nella struttura ospedaliera di Avellino e residente a Gesualdo. Intanto si attende l'esito dei tamponi post-mortem effettuati ieri su tre decessi sospetti a Contrada Moretta, mentre il sindaco Festa, in un nuovo video messaggio, annuncia che sospenderà il pagamento del ticket per i parcheggi e anche novità per il personale scolastico. Tra poco firmerò una ordinanza con la quale renderò gratuito il parcheggio su tutte le strisce blu cittadine fino al 3 aprile. Ritengo che sia un provvedimento utile, necessario a favore della mia comunità. Per ciò che concerne invece il personale, a tal lunedì sarà presa la decisione definitiva, ma ritengo che sia opportuno chiudere le scuole e consentire anche ai docenti, ai dirigenti e al personale ATA di stare a casa. La città nel frattempo ha raccolto la sollecitazione del primo cittadino a star vicini al prossimo. Tanta gente in fila al centro Avis di Via Colombo per donare il sangue. Noi stiamo registrando una grande affluenza anche presso la nostra sede a Via Colombo, come ha detto, e quindi di conseguenza ringraziamo tutti per questa grande partecipazione. Stiamo garantendo oggi all'ospedale Moscati un quantitativo di quasi 50 unità di sangue che potranno servire insomma alle persone che hanno bisogno in questo momento di trasfusioni. Bisogna donare in questo momento che c'è bisogno un po' di aiuto umanitario, diciamo tra virgolette, e questo è un piccolo aiuto che possiamo dare a tutti che hanno bisogno del sangue. Il sindaco di Salerno Enzo Napoli ha scritto al prefetto per chiedere l'ausilio dell'esercito per aumentare i controlli legati al Covid-19 e contrastare gli assembramenti. Da stamane intanto controlli serrati in centro e alla stazione, chiuso anche il centro agroalimentare in alcuni giorni della settimana, e al Ruggi si cercano spazi per il trattamento dei pazienti con sindrome coronarica. Sentiamo Filippo Notari. Schierare l'esercito per aumentare i controlli tra le strade di Salerno e fronteggiare l'emergenza coronavirus. A chiederlo ufficialmente è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che con una lettera inviata questa mattina al prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha segnalato la necessità di inasprire i controlli tra le strade del capoluogo. Purtroppo, ha sottolineato il primo cittadino, anche nelle ultime ore abbiamo avuto modo di verificare assembramenti e persone a passeggio senza comprovato motivo, in special modo sul lungomare cittadino. È necessario intervenire immediatamente con la massima durezza, per non varificare gli enormi sacrifici che la sagrada maggioranza della popolazione sta compiendo con disciplina e senso civico, ha concluso il sindaco di Salerno. Da questa mattina, intanto, tra le strade del capoluogo di provincia sono già stati intensificati controlli. Carabinieri e polizia hanno presidiato i punti principali della città controllando chi si trovava in strada. Verifiche estese anche alla stazione. Varchi presidiati dalla polizia e numerosi treni cancellati. Sempre questa mattina il sindaco di Salerno ha disposto la chiusura in alcuni giorni della settimana del centro agroalimentare a far data da lunedì 16 marzo e fino al 25 marzo. Il provvedimento, in ogni caso, non limiterà l'approvvigionamento dei negozi di ortofrutta e della grande e media distribuzione. Intanto, anche l'ospedale di Salerno sta continuando ad attrezzarsi per gestire l'emergenza coronavirus. Il segretario con delega alla sanità della FPCGL Salerno, Pasquale Adesso, ha chiesto alla triade commissariale dell'azienda di utilizzare gli spazi già attrezzati presenti al terzo piano della torre cardiologica per il trattamento di pazienti con sindrome coronarica sospetti e o confermati. Anche a Benevento, inaspriti i controlli da questa mattina, varchi di ingresso e di uscita presidiati dalla polizia municipale che ferma tutte le auto per controllare le autocertificazioni. Intanto il sindaco Mastella lancia l'allarme su un nuovo esodo dal nord al sud. Il servizio è di Alessandro Fallarino. Toleranza zero da questa mattina per chi vuole entrare e uscire dalla città di Benevento. Posti di blocco totali sono stati predisposti dalla polizia municipale e dalle altre forze dell'ordine. Tutte le auto in entrata e in uscita sono state bloccate e controllate dagli agenti che hanno anche rispinto numerosi automobilisti dopo che le autocertificazioni non sono state ritenute attendibili. Questo serve per capire bene chi entra in città senza motivo e per dare anche l'impressione che non si scherza perché le disposizioni del governo, le disposizioni del governatore De Luca, le disposizioni del sindaco Mastella vanno attuate in maniera pedissequa e nessuno può fare in modo che se ne infischia. Quindi io raccomando a tutti di stare a casa se non si ha un motivo per uscire. Stop ai furbetti che non riescono a stare a casa e con banali scuse cercano dunque di farla franca. Non sembrano voler ancora rispettare quello che è il discorso di uscire da soli. Cioè ognuno cerca comunque di trovare una scusa per lo spostamento. Quindi la nostra è soprattutto un'attività di sensibilizzazione in questo momento. Intanto il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha lanciato questa mattina un nuovo allarme per tante persone che dal nord sono salite a bordo dei treni per raggiungere le loro città natali. Dovete stare a casa dopo essere tornati dalle regioni a rischio e esortato il primo cittadino del capoluogo Sannita. E Ariano, comune più colpito in Irpinia dal virus, potrebbe essere sigillato in entrata e uscita qualora non cessassero i contagi. Ma intanto arriva una buona notizia. Dopo una settimana riapre il pronto soccorso dell'ospedale Frangipane. Sentiamo Gianni Vigoroso. Città verso la chiusura totale. In entrata e uscita per evitare un'alterore diffusione dei contagi da coronavirus. Polizia Municipale costretta, sull'ordine preciso del commissario prefettizio Silvana D'Agostino, a sensibilizzare la popolazione lungo le strade, piazze e rioni, a rimanere a casa. In questo momento così difficile ed altissimo rischio, pattuglie dislocate su tutto il territorio. Si esce solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, per l'approvvigionamento alimentare e farmaceutico, rispettando tutte le regole anticontagio. Si raccomanda alle famiglie di tenere a casa i bambini e gli adolescenti, nonché si pregano gli anziani di non uscire di casa, se non per motivi di salute. Avviata intanto la sanificazione delle strade dal centro alle periferie, ad opera di Irpini Ambiente, controlli ulteriormente potenziati lungo le strade, da parte delle forze dell'ordine. Sono ore difficili per la nostra Ariano, ha detto l'ex sindaco Domenico Gambacorte in una nota. Abbiamo reagito con grande senso di responsabilità straordinario e l'impegno di tutto il personale dell'ospedale di Ariano Irpino, a partire dalla direzione sanitaria fino a quello esterno delle cooperative, una settimana senza turni di riposo e senza dormire, una solidarietà particolare, e un grazie a chi ha lavoro. Intanto è stata disposta, su sollecitazione della direzione generale dell'ASL di Avellino, la riapertura del pronto soccorso al Frangipane. Smentita la notizia della chiusura del reparto di medicina, la direzione generale dell'ASL ringrazia tutto il personale medico e sanitario impegnati in questi giorni di emergenza e tutta la comunità irpina per il grande senso di solidarietà. È stato trasferito nella serata di ieri all'ospedale Cotugno di Napoli il deputato salernitano Edmondo Cirielli. Nei giorni scorsi risultato positivo al coronavirus. Sui social anche l'attrice salernitana Giuliana Desio ha raccontato l'esperienza del contagio. Intanto ieri in provincia di Salerno si sono registrati altri 9 casi positivi. Il sindaco di Mercato San Severino, ai nostri microfoni, prova a tranquillizzare la popolazione. Sentiamo. È stato trasferito ieri all'ospedale Cotugno di Napoli il parlamentare salernitano Edmondo Cirielli, risultato nei giorni scorsi positivo al coronavirus. Il ricovero si è reso necessario in seguito a una lieve dispnea. La situazione da quanto si apprende è sotto controllo. In giornata il questore della Camera dei Deputati sarà sottoposto a un'attacca. Dopo aver appreso della sua positività Cirielli aveva raccontato la sua esperienza sui social, confessando le sue preoccupazioni per il figlio letto. Si è affidata ai social anche l'attrice Giuliana Desio, originaria di Cava dei Tirreni. In un lungo post l'artista ha spiegato di essere stata ricoverata allo Spallanzani in seguito al contagio. Adesso il virus è stato sconfitto. Intanto resta alta l'allerta in provincia di Salerno. Ieri dei 49 tamponi analizzati a Ruggi, 9 sono risultati positivi. Tra questi c'è anche la moglie del 76enne deceduto a Bellizzi. La procura di Lagronegro invece ha avviato degli accertamenti per far luce su quanto accaduto all'ospedale di Polla, dove era stata dimessa una giovane, poi risultata positiva. Allerta alta anche a Mercato San Severino per il contagio di un 84enne ricoverato all'Umberto I di Nocera Inferiore. È un momento particolare, capisco bene che la soglia di preoccupazione è alta, però proprio in questo momento bisogna cercare di essere un attimo tutti più sobri e soprattutto tutti più attenti e rispettosi del lavoro che si sta facendo in queste ore. Parliamo di un 84enne che già da giorni non usciva di casa. L'isolamento domiciliare fiduciario imposto dall'ASL è stato circoscritto ai familiari prossimi, quindi diciamo alle figlie e ai generi. La cura per le complicazioni più difficili del coronavirus arriva da un medico di origini sannite. Paolo Antonio Ascerto, oncologo e ricercatore dell'Istituto Pascale di Napoli, è infatti di Solopaca in Valle Telesina. Lo evidenzia Domenico Francesco Galdiero, componente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, nonché vice sindaco del comune di Solopaca, che interviene in merito all'emergenza sanitaria dettata dal Covid-19. Il vice sindaco, a nome dei tanti cittadini solopachesi, si dice inorgoglito dal professore Ascerto, che attraverso l'Istituto Pascale, in collaborazione con l'ospedale Cotugno, sta cercando con tutte le sue forze di contrastare e annientare il coronavirus. E continua a far discutere la decisione del sindaco leghista di Cassano Irpino di sbarrare le principali vie d'accesso al paese. Siamo sempre nell'emergenza Covid-19. Interviene la Caritas di Avellino con il vice direttore Don Vitaliano della Sala, che parla esplicitamente di un errore, offre quell'immagine dei blocchi di cemento, soltanto disperazione. Sentiamo. Non è il momento di chiudere. In questi giorni di emergenza serve dare segnali di solidarietà e appartenenza. Il vice direttore della Caritas Avellino e parroco di Mercogliano, Don Vitaliano della Sala, commenta così la decisione del sindaco leghista di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, di sbarrare con blocchi di cemento le principali vie d'accesso al paese. La gente non ha bisogno di posti di blocco in questo momento. Certo ci vogliono e le forze dell'ordine lo stanno facendo, ma ecco, fatto con lucidità, come ha detto il Presidente del Consiglio, se chiudi le strade con i blocchi di cemento, dai un'immagine di disperazione, di chiusura, sicuramente non è un bel segno da dare ai propri cittadini né agli altri. Ecco, io eviterei questi gesti estremi di chiusura e di disperazione. Dal canto suo Vecchia si difende. La mia iniziativa ha avuto così tanto risalto mediatico solo perché sono della Lega, ma i miei compaesani hanno accettato di buon grado questa decisione. L'ho presa soltanto a tutela della mia comunità. Il nostro paese ha un solo vigile, un solo agente della Polizia Municipale e che avrebbe dovuto controllare gli accessi al paese. Sono circa 5-6 accessi nel giro di 200-300 metri. Abbiamo sperimentato nel primo giorno che mettere un vigile in un accesso era del tutto inutile perché le persone cercavano di sfuggire al controllo accedendo dalle strade alternative. Ho registrato un'unanimità di consensi rispetto a questa decisione. Questo è indice della maturità di questa comunità. Il decreto Io resto a casa permette gli spostamenti per chi dona il sangue e le donazioni sono completamente sicure. È l'appello che arriva dal gruppo Fratres di Benevento che rilancia la necessità di donare per aiutare chi ha bisogno. Maria Teresa De Lucia. Evitare che si blocchino le donazioni di sangue per paura di contrarre il coronavirus. È l'appello rilanciato in tutti gli ospedali d'Italia da quando il virus ha cominciato a propagarsi. Infatti gli ospedali si sono ritrovati a prosciugare le scorte. Una situazione che rende ancora più difficile lavorare in un momento già complicato come quello che si sta vivendo. A Benevento è il gruppo Fratres che raccomanda di non interrompere la catena della solidarietà perché le donazioni di sangue continuano ad essere essenziali per salvare vite. Con questa epidemia che ha stravolto le nostre vite facendoci inchiudere in casa la gente a maggior ragione ha paura anche di uscire e quindi di andare a fare questo gesto di enorme carità. Io posso solamente dire che la donazione è sicura quindi anche se doveste fermarvi le autorità non vi preoccupate basta che nell'autodichiarazione certificate che state andando a donare il sangue presso il centro trasfusionale San Pio di Benevento e a maggior ragione è possibile anche prenotare queste donazioni allo 0824 57 328 oppure allo 0824 57 255. Voi prenotate così non ci sarà neanche l'affollamento nella sala d'attesa rispettando quelli che sono le distanze di sicurezza per evitare il contagio di questo Covid-19. E in chiusura l'iniziativa solidale di un ristorante salernitano che ha scelto di donare il pane in questo momento di emergenza sanitaria da coronavirus. Un'iniziativa che ci racconta Sara Botte. Si moltiplicano le manifestazioni di solidarietà in città proprio durante l'emergenza sanitaria da coronavirus. Un ristorante di Salerno ha deciso di donare il pane per tutta la settimana alle persone bisognose e alle fasce deboli che non possono recarsi a fare la spesa nei supermercati. Questa iniziativa è nata dalla famiglia Martino e Lauri cioè i fondori del Concord con mio cugino Mariano Cucurullo per aiutare tutti i nostri amici, clienti e chi ci conosce perché in questi momenti difficili noi e il Concord vogliamo stare vicino a tutti e vogliamo stare tutti insieme. Sono arrivati molti amici, anche persone del quartiere, della zona e nei prossimi giorni vedremo di fare altri impasti di pane e stare qui per voi. Il Concord non lascia nessuno soli e siamo nelle case delle famiglie se avete bisogno. Siamo qui per voi. Molte persone del quartiere, clienti e amici sono venuti questa mattina e hanno preso un po' di pane fatto da noi. Serviremo tutto il pane che in effetti è rimasto, lo porteremo alla mezza dei poveri almeno perché non si butti nulla. In questo è un periodo un po' critico, un po' per tutti. Lo stiamo vivendo in prima persona e quindi cerchiamo di aiutare almeno il nostro piccolo con le rimanenze del giacente che abbiamo al ristorante. È un auguro che tutto passi. Ci fermiamo qui con questa edizione di 8 Channel News, canale 696. Grazie regia ad Orlando Matarazzo. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi il TG Sport. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.